Kepler è stata una missione scientifica della NASA basata su un satellite lanciato nel 2009 che aveva uno scopo molto ambizioso. In particolare è stata la prima missione da spazio a ricercare i pianeti con il metodo dei transiti su un campo di vista molto grande, quindi su un'area del cielo molto grande. Questa differenza ad esempio di una missione europea che era stata lanciata qualche anno prima, Corot, che andava a scoprire pianeti, mentre in questo caso lo scopo era di fare una vera e propria statistica dei pianeti, andando a scoprire un gran numero di oggetti attorno a un campione di circa 200.000 stelle di tipo solare che erano all'interno del suo campo di vista. Kepler ha un po' cambiato la prospettiva nello studio dei pianeti extrasolari perché ha permesso per la prima volta di capire quanto i pianeti sono comuni attorno alle stelle, in particolare in funzione del loro raggio, quindi le loro dimensioni e delle caratteristiche delle stelle ospiti. Ed è estrapolando i risultati che abbiamo ottenuto da Kepler che sappiamo che presumibilmente i pianeti di tipo roccioso nella fascia abitabile di stelle simili al Sole sono particolarmente comuni. Secondo alcune stime intorno al 50% di queste stelle hanno pianeti rocciosi in fascia abitabile. Questi pianeti ovviamente non sono stati ancora scoperti con un'altra margine di sicurezza da Kepler ma saranno piuttosto l'obiettivo di future missioni spaziali, per esempio PLATO che è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea. Kepler doveva osservare per circa tre anni e mezzo quello che era l'obiettivo principale della missione e il satellite si è comportato molto bene senza quasi intoppi per i primi quattro anni, quindi è riuscito a osservare tre anni e mezzo e anche a eccedere questo obiettivo e purtroppo dopo quattro anni la missione si è interrotta per un problema tecnico. Ma di fatto le osservazioni non sono finite perché in uno secondo stadio della missione chiamata K2, quindi Kepler 2, il telescopio, cambiando completamente strategia osservativa, ha iniziato a osservare non già solo la stessa area del cielo per un grande numero di anni, insomma, ininterrottamente, ma ha iniziato una mappatura ancora più estesa del cielo andando a osservare di circa 2-3 mesi in 2-3 mesi altre aree del cielo e quindi di fatto espandendo quella che era il numero di stelle che poteva andare a osservare.